Impeccabile e minuzioso come un intervento da restauratori. Ad estrare due caminetti risalenti al Settecento, però, sono stati alcuni ladri dal modus operandi certosino. Il furto è avvenuto domenica sera, presumibilmente intorno a mezzanotte, in un palazzo antico in fase di ammodernamento all'angolo tra Vicolo San Martino e Via Verdi, in centro storico a Piacenza. L'edificio non è abitato, le stanze sono vuote, senza redi, in tonnacchie pavimentazione. I proprietari lo stanno ristrutturando, con l'obiettivo di trasferirsi lì entro gennaio. Lunedì mattina, giunti sul posto per controllare l'avanzamento dei lavori, hanno trovato una brutta sorpresa. Le cornici in marmo dei focolari, dal valore di quasi 10.000 euro ciascuno, sono state sventrate a colpi di piccone. I malviventi hanno dimostrato forte conoscenza della materia, sradicando i caminetti con delicatezza e prestando attenzione a non danneggiarli. Per terra hanno addirittura lasciato alcuni frammenti non originali. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine potrebbero essersi intrufolati nella struttura arrampicandosi sui ponteggi del cantiere. Una rapina tipica, insomma, che è stata compiuta con grande pazienza ed evidentemente a colpo sicuro. I proprietari hanno sporto denuncia alla polizia e sul luogo sono arrivati gli agenti della scientifica per espletare tutti gli accertamenti e rilievi del caso. Grazie. 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 Grazie.